Buona giornata da Eleonore, oggi farò un video spiegazione di un consulto che ho fatto ieri. Dunque, la prima fila riguarda il lavoro. In questo caso verranno offerti alla mia cliente dei posti di lavoro che però saranno molto impegnativi e non lasceranno molta possibilità di stare a casa in famiglia. Quindi, i posti di lavoro che verranno offerti a breve, io consiglio di rifiutarli. Arriverà con, diciamo, forse l'anno nuovo, un'offerta invece che sarà da valutare e considerare. Sarà un'offerta molto positiva. Vediamo poi, per quanto riguarda la casa, ci vorrà un po' di tempo anche qui a trovare la soluzione locativa migliore. E in questo caso, le prime sono da scartare. Arriverà sicuramente una casa molto bella e che comunque piacerà sia a te che alla tua famiglia e dove potrai andare a vivere bene. Quindi, io dico indicativamente massimo un anno, sia per il lavoro, sia per la casa. Per quanto riguarda invece l'amore, posso dire che si prospetta all'orizzonte un uomo più grande di te, più maturo e benestante. Quest'uomo non l'hai ancora incontrato nella tua vita. Probabilmente lo conoscerai attraverso persone che conosci tu. E vediamo che la situazione è favorevole. E' probabile che ci sia una relazione importante con quest'uomo. In vista ci sono anche molti denari. Quindi, la situazione d'amore appunto è in evoluzione. Questo è il primo consulto che svolgo con la mia nuova cliente. Per qualsiasi necessità ci sentiremo. A presto, dai Leonov.